Non oso chiedertelo. Sto cercando una ragazza. Lei lavorava alla fabbrica dei fiammelli. Inola Holmes. Lei è una detective. Ho l'impressione che il vento se la porterà via. Ha scoperto qualcosa che le persone potenti vogliono nascondere. Ed è letale. Sherlock! Che cosa fai qui? È il mio caso o il tuo? Entrambi. I nostri casi sembrano collegati. Il gioco ha ritrovato un senso. Estorsione, ricatto, corruzione. Temo che si sia messa contro le persone sbagliate. Fermate quella ragazzina! Le snob come te non sanno combattre. Snob o no, sono molto brava a combattre. Le piace causare guai, non è vero? Non essere così disperata da metterti alla prova. Ma è importante. So cosa significa sentirsi soli, essere ignorati. A nessun altro importa di quelle ragazze. Io ho peggiorato le cose. Sciocchezze. Devi trovare i tuoi alleati. Collabora con loro e diventerai ciò che sei destinata a essere. Smettitela! Potresti essere magnifica. Mi serve il tuo aiuto. Be my girl. Non farmelo ripetere, posso entrare. Tutti qui dentro recitano una parte. La X segna il punto. Loro si studiano. Ma che maleducato! Non dovreste finire la scuola? Mi chiedo chi ti abbia insegnato a lottare. Nostra madre dovrà rispondere. Sì, va bene! Anderra del Mondi. Sì, va bene! Sono veramente un po' di nuovo. Adesso ne provo−